Sotto questo ponte era il ritrovo dei partigiani nella seconda guerra mondiale, mentre il comando dei tedeschi era il vecchio mulino che è posto sulla cuasina, praticamente è un tiro di fucile da loro. Non era un bel posto dove nascondersi forse? Probabilmente da qua controllavano tutti i movimenti che facevano.